Affollato incontro questa mattina nell'atrio dell'auditorium di via Polenghi Lombardo a Lodi. A ritrovarsi sono stati i dipendenti comunali che si occupano dei tributi da versare alle amministrazioni pubbliche. L'incontro è stato organizzato dal comune di Lodi per cercare di fare chiarezza sulle tariffe da versare per lo smaltimento dei rifiuti e per gli altri servizi erogati ai cittadini. Alla relazione degli esperti invitati per l'occasione ha fatto seguito il confronto con alcuni amministratori pubblici. Al di là delle sigle che si sono succedute sinora nell'indicare i vari tributi a carico dei cittadini, l'unica cosa certa sono i criteri di fondo che saranno adottati per quantificare quanto dovuto, i metri quadrati della propria abitazione ed il numero dei residenti. Nulla di nuovo quindi per i lodigiani che dovranno mettere mano al portafoglio.